E adesso parliamo del bello che c'è intorno a noi, benvenuta nei nostri studi a Ilaria Borletti Buitoni, il sottosegretario dei beni artistici e culturali del nostro governo e già presidente del FAI. Stamane è stata in visita alla Certosa, al villaggio Leuman di Collegno, visita che è terminata davvero poco poco fa, insomma che impressione ne ha avuto? Ma sono entusiasta, intanto sono entusiasta della bellezza del complesso della Certosa, ma sono soprattutto entusiasta di aver visto delle istituzioni e una comunità di cittadini volte a voler valorizzare questo patrimonio, che è un patrimonio immenso perché passa dall'archeologia industriale a quello che resta di quell'immenso sanatorio che occupava peraltro uno spazio centrale nel Comune di Collegno. Quindi mi pare che sia veramente Collegno, ma come del resto è il Piemonte, un esempio di attenzione al patrimonio identitario che servirebbe per tutto il Paese. Ecco, intanto grazie delle sue parole, insomma è stata un'importante occasione sicuramente per il Comune di Collegno, importante realtà della città metropolitana, per presentare al governo quelle che sono delle sue specificità dal punto di vista storico e culturale, insomma l'abbiamo letto in questi giorni sul giornale, nell'approvazione della legge di stabilità continua, esiste sempre l'art bonus, ma insomma lei è venuta nel nostro territorio per portarci qualche buona notizia. Le notizie buone ci sono, intanto l'art bonus è stato confermato nella legge di stabilità che si andrà a discutere tra poco e questo mi pare un segno importante perché l'art bonus è uno strumento complesso, non lo sto a negare, ma è estremamente utile e ha dato un'apertura su questo mondo delle donazioni private che è importantissimo avere anche nel nostro Paese. Quindi soprattutto alcuni dei beni che ho visto stamattina potrebbero essere benissimo oggetto di art bonus. Il nostro Ministero, poi grazie al Ministro, ha avuto un incremento di fondi che però diciamo è dell'8% nel 2016, in dieci anni erano stati persi il 40% dei fondi, quindi naturalmente si ferma una caduta e si recupera qualche cosa e l'impegno è ancora enorme. Quindi che cosa posso dire dal punto di vista del Governo? Attenzione ai progetti anche turistici di Collegno perché poi c'è anche un problema di valorizzazione turistica di tutto quello che ho visto stamattina. Sostegno naturalmente se volessero fare l'art bonus anche nel modo in cui lo possono fare. Attenzione delle nostre soprintendenze all'emergenza della parte monumentale dove forse si può anche pensare a un nostro intervento, naturalmente ben valutando se e come è possibile farlo. Insomma un modo di fare percorsi culturali e artistici anche in quella che è la realtà post-industriale e industriale del nostro Paese, in questo caso una realtà come quella di Collegno. Beh sì perché poi ancora una volta il Piemonte in questo ha dato delle lezioni, nel senso che la valorizzazione dell'archeologia industriale come oggi ho visto il villaggio Leoman, ma anche mi ricordo di aver visitato a Biella e in altre occasioni dei centri che si riferivano a questa forte tradizione di questa regione, è importante. È importante perché poi l'identità di una comunità affonda le radici in queste attività ed è bene che ci si ricordi anche del messaggio in qualche modo morale di imprenditori che hanno stabilito la loro attività ma hanno anche pensato alla vita, alla quotidianità, alle scuole, alla salute delle persone che lavoravano all'interno delle loro fabbriche. È un modo di essere imprenditori che mi piace molto. Bene, grazie a Ilaria Borletti-Buttoni per essere stata qui con oggi e noi continuiamo con il nostro giornale.